Applausi 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 tutta la sorgente. I ristoratori, esercizi, commercianti e privati cittadini hanno organizzato punti di ristoro per gli angeli rossi, sparsi tra i punti della città ed è nato così il testo secondo minuto, mensa dell'epoca dedicata al nome del nostro santo patrono, San Secondo. Pertanto, la Commissione del Preto ha rivelato una modalità di assegnare il trentesimo premio San Secondo in Tarcetti, città di Vittimiglia, anno 2021, a tutti i volontari e ben fattori, a tutti coloro che distintamente ci sono proteggati, che hanno lavorato palacremento, hanno fatto offerte in denaro o bieni materiali, secondo le loro forze e le conseguenze. Per passire San Secondo in Tarcetti, città di Vittimiglia, sono risorgesse dal plan più bello e splendente di prima, da Vittimiglia. Il premio si è esposto nel palazzo patronale, a perenne memoria della vera e quadroca di Eguro e Sancto delle Vittà degli Angeli del Vittimiglia, dalla Città di Vittimiglia, il giorno in cui se ne è posto con i raggiunti, ricorrenza di San Secondo Marte, controllo della città ed è nato di oggi.